Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Elden Ring Bene, continuiamo da dove eravamo rimasti, andiamo pure di qua Apriamo, cioè apriamo, tiriamo Perfetto, voglio vedere un attimo una cosa Se mettere una cosa un po' più pesante Posso avere un pochino più di, mi sa proprio di no, da 37, massimo vado a 38 Quindi non penso di guardare più di tanto Va bene, pazienza, andiamo pure qui Vediamo un po' come fare Dopo che siamo andati qua Dobbiamo andare in questa direzione A ammazzare un po' di gente, come al solito Siamo delle novità, vediamo se c'è qualcosa, no? Allora Vai Oh porca vacca Ok, povero scemo Opla Opla Ho fatto una cacata da panico Eh 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 Se non faccio una cacata di video io Non sono contento, vero? Ok Perfetto Benissimo 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 Prendiamo un altro po' di danni Ok Vase inclinato Vase inclinato Poi Fatto ciò Dobbiamo scendere a prendere una cosa Scendere di qua Ok Perfetto Presa Poi Una volta fatto ciò Dobbiamo andare qua Prendere questa Perfetto Andare qua C'era niente qui, vero o no? Poi andare qui Ok Ok Andare qui Perfetto Adesso Andare tutto a destra Perfetto Di qua Ancora di qua E ancora di qua Eccoci qua E abbiamo preso la pietra di forgiatura 2 Ok Adesso da qui Dobbiamo andare qua Opla Mi stavo scusando di saltare Scusate Dobbiamo andare qui Prendere questo Qua prendere questo Perfetto E qua prendere questo Ottimo Poi dobbiamo andare qua Benissimo Eh ovviamente Vabbè What up Perfetto E questi si sono allertati Allora Tanto li metto qua Che devo vedere la guida Perché sono già scordato Scusate Ok Devo ammazzarli Allora Andiamo giù qua Oh io ho schivato però Se proprio insisti Ecco qua Prendi Ho preso questo Adesso Qui facciamo Così Così E così Perfetto Poi Da qui Se non c'è nessun altro Ok scendiamo Poi riusciamo Eccoci qua Eccoci qua Fatto ciò Vediamo anche da lui Perfetto Prendiamo Questo bello scudo Scudo a torre della rocca Cialepa Deo Che scudo è Scudo a torre della rocca E Questo Questo sarebbe Proprio bello Bello E andrei su pesante Però mi piace proprio tanto Questo qui Pesa 6 kg Questo 16 10 kg in più Un po' tanto Però Questo è veramente bello E mi dà tanta stabilità Ci penserò più avanti Questo qui invece dà Più stabilità Ma dà 94 Quindi non me ne faccio un cazzo Peccato Ok Per il resto Vediamo un po' Sembrerebbe che non ci sento Andiamo Vediamo cosa dice qui Legge messaggio Ciò che cerchi Deve essere vicino Beh grazie dell'informazione Pietra forveggiatura 3 Ok Andiamo avanti Voilà E di qua Perfetto Grazie Andiamo qua Guardo la guida Ok Andiamo qua Andiamo questo Fantastico Andiamo di qua Apriamo lo shotgun Ottimo Ci sediamo Perfetto Poi Da qui Dobbiamo tornare Dove siamo venuti Che abbiamo aperto lo shotgun Poi Dobbiamo andare qua Veloci Adesso Se moriamo pazienza Anche non è una gara Eccoci qua Vai Benissimo Benissimo Ok Poi Qua Andiamo di far così E Se facessi così Forse Ok Che è bastato What? Perfetto L'ho ucciso con l'arco Ok Ok poi Poi Preso questo Adesso Prendiamo l'arco Usiamo la freccia Ardente Mi locchi Mi locchi Non mi locca Perché non mi locca? Ok Scusate ma A volte non lo capisco Proviamo senza Usare il mano Non serve un cazzo Quindi mi tocca Per forza Usare il mano Va bene Andiamo Opla Perfetto Allora Vediamo di uccidere Questo coso Perfetto E questa è andata Poi Da qui Li mettiamo la spada Ok Scendiamo Tranquilli Beati Voilà Perfetto Andiamo qua Con calma Niente fretta Ok Grande Perfetto Ottimo Bene E andiamo qua Perfetto Poi Da qui Sono cazzi Ok Con calma Che ce la facciamo Io farei così Così Gli chiamo Perfetto E' andata proprio bene bene Ok Benissimo E' andata da dio proprio Ok E questo è uno Poi Perfetto Vai Rilassati Oh porca vacca E va Fa un culo Adesso ce la faccio Preoccupate Ok Ok Così Ah non mi ha dato Interazione Vabbè pazienza Allora Adesso andiamo qua Prendiamo questo Prendiamo qua Ottimo Abbiamo preso anche questo Adesso andiamo qua Ci rigeneriamo E qua So cazzi Da cacare Allora La consiglio Di mettere Allora Togliamo un attimo Allora Ci accendiamo Questa Che serve Poi la tolgo Un attico Eeeh Toggo questa E tolgo questo E mettiamo un attimo Questa Ok Poi Allora Ci prepariamo Questa Andiamo giù Ce la mettiamo Ok Perfetto Benissimo Ok Ok Non so dove devo colpirlo Vai Perfetto Allora Ah mi apprende anche l'edito Scusate non lo sapevo Colpa mia Ok No Ma porca vacca Ma c'erano tutti i cadenti Ok Vai Non riesco a prenderlo Mi viene da ride Scusate E niente Eh sempre quando bevo Mi raccomando Non vedo cazzo Telecamera Ok Un po' Scemo Quanto ci ha creduto E niente Perfetto Perfetto Ok E niente E' morto E' morto Ok A posto Ce l'abbiamo fatta Dai Ecco qua Fatto 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 Seve d'oro Bene dai Non è andata male male Vedete mi trovo meglio quest'arma Ok Cominciamo a prendere un po' di cose Di qua Questo Perfetto Questo Grande E' questo Perfetto Adesso andiamo di qua Andiamo a vedere se non ho sentito niente Mi sembra proprio di no Andiamo pure Avanti Pustola del principe della morte Dovrebbe esserci una Eccola qui Questa non è quello Roger Brava lui Ok Se fa uno starnuto è da panico Guardate lì Comunque sia Possiamo adesso Teletrasportarci Senza problemi A Qua Esatto Alla Chamber E vediamo un po' Da qua Facciamo E adesso ci divertiamo Allora andiamo qua Poi Qua con molta calma Dovrei Prendere questo Se ce la faccio Perfetto Andata Oh Perfetto E adesso Qui prendiamo le botte Beh intanto E' sempre così What Oh ce l'ho quasi però Eh Vedo cazzo E' un po' 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 Mi schiva Adesso Qui dobbiamo Prendere Una cosa E dobbiamo far venire Una persona Dobbiamo attirarla Fino a qua Per far si che Questa la rompa Adesso però Dobbiamo fare Un bel casino Allora Dobbiamo attirare La gente qua Io devo prendere Il trombettiere Che adesso Non ricordo Chi sia C'è un trombettiere Che avvisa tutti Adesso però Non so chi sia E quindi È un bel casino No Vabbè Ma è andata È andata Eh scusate Ho fatto l'ordia cacata Però insomma Mi sono divertito anche Ok Aspetta Aspetta Un attico Si è fatto Prendere il panico Insomma What E niente Vai vai Oh Bravo Bravo Interessante È vero che questi Rompono i coglioni Così Chi è che si è ferocato Ok Vai Grande Ah non c'è problema Adesso arrivano tutti Se li vedo Non ci sarebbe neanche problema Intanto prendiamo Un po' di roba Oh porca vacca Oh ma come ci ha creduto To Perfetto Poi Chi altro Ah è lui lì Aspetta un attico Che qui c'è un altro What Perfetto Poi Eh Eh Lock Maledetto Cerchiamo di non andare troppo in là Perché solo questi Sparano Perfetto Altri Non ne vedo Sono da giù Calma eh Oh Ma ha dato la picca Ma che cosa gradiosa Aspetta che dice anche gente Va via grazie Perfetto 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 Sono qui Sono qui Ok Perfetto Poi Vediamo quanta bella roba c'è Da fare Prendi grazie Oh che cosa gloriosa Poi Qua Perfetto Altri Bene Dopo questo Andiamo qua Devo vedere Ah c'è altra roba Scusate Ho lasciato indietro molte cose Poi Non è mica finita Allora prima di tutto qua Sentiamo che io Sempre di notte vengo Poi Una volta fatto ciò Ci sono delle porte da entrare E delle cose da fare Adesso guardo Lo guido bene Perché voglio farli Bene Prima che arrivi qualcuno Ok non c'è nessuno Ok Allora Dobbiamo proseguire Qua Per prendere un po' di cosine Andiamo giù Qui prendiamo questo Perfetto Ottimo Proprio scemo Allora c'è boia Scusate Ho sbagliato io Coppa mia Eh adesso ci riprendiamo Oh Plà Signoro Non si fa così Ma è educato Dai Bravo Ok Poi Andiamo di qua Qui Perfetto Adesso Andiamo qua Poi Dobbiamo proseguire qui E andare lassù Perché vedete che c'è qualcosa Che si illumina lassù in alto Quindi andiamo a prenderlo Perfetto 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 Ottimo Precce di aree Bene dai dodici Dai così Ne abbiamo un bel po' Poi Adesso dobbiamo fare due tre cosine Andiamo qua Perfetto Entriamo qua dentro Prendiamo il quadro Perfetto Profezia Poi E adesso ci sarà da divertirsi Veramente Ma porca vacca Dobbiamo far rompere questo coso Ok Però prima dobbiamo fare due tre così Intanto sta facendo giorno Aspettate un po' apposta Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Vai Ok Non è bastato Pazienza Mamma mia Che brutta Eh ma allora Ma Va vanculo Va Ecco Eh Sti piccioni Sti piccioni Poi Andiamo di qua Non è come è morto male il signore Scusate Ho sbogliato Allora Era qua Dobbiamo salire Poi andare di qua Perfetto Se non viene quello là Benissimo Andiamo di qua Ok E prendiamo qua Perfetto Pietraforgiatura due Poi da qua Eh Deve fare due cosine Allora Andiamo di qua Vediamo un pochino Dove è questo qua Vai Perfetto Aspettiamolo Niente Ce la faccio più eh Ok Stavolta non ho preso danno Poi Si arrivo signore Non si agiti Tac Perfetto Dobbiamo andare Esattamente Qui Perfetto Perfetto Andiamo qua Dobbiamo imparare Tre volte Mi sembra Perfetto Grazie a tutti. Ok. Perfetto. Ok. Oh, salve. Prendiamo... Qua. Piedra di forgiatura. E adesso... Dobbiamo fare una bella cosa. Allora, andiamo di qua. Prendiamo questo. Perfetto. Poi andiamo qua. Che c'è questo. Ottimo. Poi andiamo qua. Perfettico. Che c'è questo. Ottimo. Poi... Dobbiamo cercare di farci seguire dal troll. Vediamo se ci riusciamo. Tanto magari... Facciamo così. Perfetto. Ottimo. Adesso ci facciamo seguire dal troll. Bene. Così. Adesso io non vedo un cazzo, ovviamente. Andiamo di qua. Guardiamo sempre se ci segue. Ok. Però... Bello più potente, eh? Signor troll. Salve. Sì, sei qui io, eh. Lo so che lei lo sa, però. Se magari mi segue. Salve, signor troll. Venga, venga, non sia timido. Dove cazzo è qua? Luck. Oh, porca vacca. Perfetto. E adesso lo affrontiamo. Ok. Guardate. Oh, porca vacca. Cioè, mi sono messo proprio sul suo piede. Non è giusto. Ok. Poverino. Mi sono rimesso ancora sul suo cammino. Eh, devo giocarlo un po' meglio, dai. È facile. È una cacata atomica. Solo che io, come al solito, le cose le rendo sempre difficili. Ok. Ok. Perfetto. Poi. Va bene. Ok. Perfetto. Andata. Vedete? Non era difficile. Adesso prendiamo la statua dove il signore ha fatto gentilmente aperto. E prendiamo la pietra di forgiatura. Uh, mi dici cazzo. No, c'è anche la cinque. Dai. C'è anche la due. C'è, volevo dire. Ok. Adesso da qui. Bene. Adesso non è mica finita. Perché noi abbiamo lasciato in dietro una cosa, se vi ricordavate. Quindi adesso andiamo a farla. Ah, ok. Una porta che era rimasta chiusa con una chiave di pietra, vi ricordate? Adesso fatemela trovare un attimo perché io, come al solito, riesco sempre a perdermi. Dovrebbe essere qui una discesa. Dovrebbe essere qui. Ok. Andiamo qua. Perfetto. Ok. Vieni, caro topo. Ah, vabbè. Perfetto. E adesso... Oh, adesso il cazzo. Ok. Come è duro sta arma. Quanto mi piace. Ok. Poi, da qui, andiamo a fare due, tre cosine. Mettiamoci qua un attimo. Allora, ricominciamo a raccogliere un po' di cose. Allora, qui, se andiamo un po' avanti e indietro, questi topi possono droppare una cosa interessante. Adesso non me l'hanno droppato. Ovviamente ho arcano molto basso. Però non importa. Allora, non c'è niente. La scheggia... Come cazzo si chiama? Quella... Frammento di Alderlin. Non mi ricordo come si chiama in... Italiano. Ma comunque... Io l'ho parlata diverse volte, con una vecchia rank e feci. Allora, vai. Sì. Perfetto. Adesso prendiamo le varie cose. Ci sono due schegni. Bene. Ho aperto, lo so che l'ho aperta. Bene, prendiamo. Uno è qua. Sigillo Deicida. Vediamo un po' che è questo sigillo Deicida. Doveva essere qui. Non lo vedo. Perché sono cieco, probabilmente. Allora, inventario. Sigillo Deicida. Giusto per vedere. Interessa sempre a me. Vediamo. Non penso sia un materiale. Qui non c'è. Qui non c'è. Non lo vedo. Era per sapere che cazzo è sto sigillo Deicida. Ah, ok. Per gli incantesimi, scusate. Proprio non mi ricordavo, figurati. Sempre lo ricordavo. Poi. Vediamo qua cosa c'è. Breviare del sacri d'erno. Che roba che ho capriso. Allora, vediamo un po'. Andiamo avanti. Eh, perché c'è da fare una cosa molto interessante adesso. C'è da andare qui. Da andare qui. Poi. Andiamo qua. Poi andiamo qua per l'altra scala. Dobbiamo ammazzare quel cavaliero. Abbiamo tre fieschette. Ce la facciamo, dai. Allora, facciamo così. Vai. Lo chiamiamo. Alla porto. Mi scusi, signore. Non volevo. Ci hai fatto male? Quanto mi dispiace. Ecco qua. Poi. Chiamiamo anche l'altro. Salve, signore. Potrebbe venirci un attimo. Grazie. Molto gentile. Eh, vabbè. Adesso faccio un fail da panico. Dicevo. Eh, l'ho detto. Eh, vabbè. Eh, niente. L'ho detto io che lo facevo il fail. Ok. Va bene, va bene. Fuck. Conosciamo. Eccoci qua. Fatto. Poi, da qui. Eh, dobbiamo fare una bella cosa interessante. Andiamo un attimo qua adesso. Tagliamo il ponte. Forse una bevuttina me la farei. Perfetto. Dobbiamo scendere lì. Eh, signore, rilassati. Lassati. Ah, scusate la fretta. Ok. Non ho capito come ha fatto a vedermi chi... Che si è così sconvolto. Comunque dobbiamo andare qua. Eh, ecco chi si è sconvolto. Vabbè, io... Scusate, eh. Visto che posso. Lui ci riuscirà a prendermi? Cioè, io ce la farò a prendere, cioè. Sì, ce la faccio a prendere. L'importante è aver capito, eh. Adesso, piano piano, lo prenderò. Ok. Eh, ah. Prendilo. Maledetto. Loc. Quanto l'odio sto gioco, Loc. E niente. Non ce la posso fare con il Loc. Porca vacca, che palle. Non doveva succedere questo. Non doveva. Il solito sfiga che mi... Che mi proseguita a me. È sempre così, eh. Non ci facciamo un cazzo, eh. Allora. Si è rilassato? Vediamo se è lontano. Scusate, ma non doveva proprio succedere una cosa simile. Allora. Vediamo un po' come posso gestirla. Ok, l'ho ucciso, ma mi ha massacrato. Porca vacca, che sfiga. Vabbè, non doveva andare così. Purtroppo è andata. Pazienza. Adesso, dobbiamo salire qui. E ammazzare questo qui. Perfetto. Ottimo. Poi, qua. Ci mettiamo un attimo qui. Con calma. Oh, ci ho un altro giglio. E aspettiamo un attimo. Adesso. Calma e salgo il freddo, eh. Dobbiamo andare qui. Un po' è una corsa contro il tempo, però. Ok. Perfetto. Ok. Adesso. Vediamo qui. Sì, sì. Loro più i baroni. Questo qua. Barbalestra. Allora, chi è che ropa i baroni? Ecco. Ah, è lui. Oh, è riuscito ad arrivarci. È stato bravo, eh. Vediamo se riusciamo a fare un'altra cacata. Vai. Ok. Aspetto che... Vai. Ok. Meno male che ce l'abbiamo. Poi, da qui... Eh, da qui è un bel casino. Perché dovremmo correre verso la grazia. Però, per arrivare alla grazia... È un bel casino. Ok. Qui ci facciamo un po' male. No, dai che... Forse qualcosina autotisco. Ok. Allora, dobbiamo scendere qui. Poi... Eh. Ok. Eh, esagerati. Eh, no. Eh, ma allora quanti li fai? Ma fanno un'altra, li fatti pochi. Eh, niente. Mi sono agitato e ho fatto cacate. Scusate. A volte succede, eh. Vai. Ok. Poi. A questo punto facciamo così. È l'ultima. Ok. Dobbiamo semplicemente andare di qua. Dobbiamo anche correre. Vai. Andare di qua. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. E attiviamo la grazia. Oddio, ce l'ho fatta. Non ci credo. Oh, porca vacca. Ok. Perfetto. Io direi che magari interrompiamo qua. Se non faccio video lunghissimo. Ce l'abbiamo fatta. Va bene. Vi faccio vedere dove siamo. Perché ovviamente devo farvi vedere. Siamo esattamente qua sul ponte. Che dopo qua ci sarà una cosa che vi dirò. Dobbiamo fare ancora tante cose. Non è mica finito il castello. C'è anche il boss. Quindi, ragazzi. Per solito vi invito. Lasciate un commento. Ci piace la serie. E fammi sapere cosa. Pensate. Per il momento vi saluto. Ciao, ciao.